Bene ragazzi, eravamo rimasti al termine della scorsa lezione sul contrasto che si andava deneando fra il papato e l'impero dopo la creazione del sacro romano impero germanico. La posizione di Ottone I e dei suoi successori di estrema durezza nei confronti della chiesa era anche favorita dal fatto che nel decimo secolo la chiesa non dava certamente grandi esempi di moralità sia nei suoi vertici sia soprattutto nei suoi ranghi più bassi. Era un clero quello del decimo secolo particolarmente ignorante, addirittura ci sono stati diversi casi di preti assolutamente analfabeti e quindi diceva una messa a memoria per capirci, corruzione ma soprattutto simonia ovvero la vendita delle cariche ecclesiastiche per non parlare degli intrighi che le famiglie romane più importanti mettevano in atto per far sì che uno dei suoi membri diventasse papa, quindi le varie trattative, le corruzioni, anche gli assassini durante le votazioni pubbliche che vi ricordo che fino all'undicesimo secolo i papi erano eletti da tutto il popolo romano riunito davanti alla vecchia basilica costantiniana di San Pietro. E poi c'era il concubinaggio, un altro problema che affliggeva soprattutto la chiesa nei suoi ranghi inferiori. Bisogna dire oggettivamente che in questo periodo ai sacerdoti secolari, cioè ai preti per capirci, era ancora concesso sposarsi, mentre a quelli regolari, ossia ai frati, il divieto era già operante. Tuttavia questa cosa portò diverse esagerazioni con ecclesiastici che sostanzialmente avevano uno, due, tre amanti che trattavano come concubine, quindi le portavano tranquillamente a casa e le trattavano come se fossero mogli. Questo da un lato, dall'altro lato c'era un'altra tendenza che venne sempre più accentuata proprio da Ottone I e dai suoi successori. Quello di nominare come feudatari i vescovi o comunque gli esponenti dell'alto clero, anche Abbati per esempio. E questo era dovuto da un dublice motivo, dalla parte naturalmente la preparazione maggiore che avevano gli ecclesiastici, che sostanzialmente erano gli unici che potevano studiare nel periodo dell'alto medioevo. Poi c'era la fiducia che gli imperatori nutrivano nei confronti del clero, ma soprattutto c'erano motivi politici molto importanti. Siccome i vescovi non potevano sposarsi, quindi non potevano avere figli, almeno non potevano avere figli legittimi, alla loro morte il feudo non sarebbe stato ereditato dal successore come prevedeva, come sapete, il capitolare di Chiersicchi era ancora del tutto attivo, ma sarebbe tornato il feudo all'imperatore che ne avrebbe disposto per un altro feudatario. Questa era una motivazione più che sufficiente affinché gli imperatori cominciassero a nominare come feudatari proprio i vescovi, in modo tale da garantirsi sempre il controllo del feudo. Questa situazione, con il crescente potere politico del Papa, con la situazione ben poco raccomandabile del clero occidentale, portò ad un progressivo distacco, che già del resto si era approfondito negli ultimi secoli, fra i vescovi d'Oriente, quelli dell'impero bizantino, quindi quelli che avevano cultura e lingua greca, con quelli dell'Occidente. Fino a quando nel 1054, di fronte a un problema dottrinale che fu preso a pretesto, ma che comunque conteneva una sostanza, il problema del figlioque, cioè sul fatto che lo Spirito Santo procedesse, secondo i cattolici, dal padre e dal figlio, mentre secondo gli ortodossi dal padre solamente, mediante il figlio, sottile distinzione, ma che aveva un'importanza teologica molto ampia, ebbene a causa di questa disputa tutto il clero orientale si staccò da Roma e non riconosce più l'autorità del Papa su tutta la Chiesa. Nasce così la Chiesa Ortodossa, che come sapete è ancora esistente, una Chiesa particolare in cui ogni patriarca ha una giurisdizione particolare e in cui non c'è un vero e proprio Papa. Tuttavia la Chiesa seppe rinnovarsi, seppe rinnovarsi innanzitutto a partire dal basso. Lo fecero, lo resero possibile i monaci, nuovi ordini monastici come quelli dei Cluniacensi, dei Cistercensi, dei Certosini, che nei loro monasteri scelti proprio nelle parti più inaccessibili dell'Europa, che diventavano veri e propri centri culturali, ma anche centri in cui rifioriva l'agricoltura e l'artigianato, dove la popolazione guardava con simpatia, ma anche con interesse, a tutte le possibilità che offrivano i monaci. Ecco, grazie a questi nuovi ordini monastici, la Chiesa inizia lentamente un cammino di ripresa dal punto di vista morale, dottrinale. Ma dove l'azione si fece più dura fu nell'undicesimo secolo, con due papi in particolare, Niccolò II e Gregorio VII. Vediamo cosa hanno fatto di così importante per la riforma della Chiesa, ma anche per il contrasto sostanziale con le pretese dell'imperatore. Allora, nel 1059 Papa Niccolò II parte, nella sua offensiva contro l'impero, proprio dalla norma più antipatica per la Chiesa, più difficilmente digeribile, quel privilegio motonis, che lasciava nelle mani dell'imperatore un potere troppo grande, cioè quello di determinare chi fosse il capo della cristianità. Niccolò II, nel 1059, stabilisce una nuova modalità di elezione, che è quella che c'è ancora oggi, cioè il Papa viene eletto esclusivamente dal collegio dei cardinali. Allora, nell'undicesimo secolo, il collegio dei cardinali non era altro che quel collegio di 21 sacerdoti, o meglio, 14 sacerdoti e 7 diaconi, che presiedevano alle chiese più importanti di Roma. Infatti anche oggi i cardinali, quando vengono nominati, si vedono assegnare simbolicamente una chiesa di Roma, come gli antichi cardinali, che erano per l'appunto i parroci delle chiese più importanti di Roma. Quindi Niccolò II sottrae il controllo dell'elezione del Papa sia dal popolo, e quindi da tutti i maneggi, dai ricatti e dagli assassini che questo comportava, sia soprattutto dall'approvazione imperiale. Ma chi più degli altri ebbe una importanza capitale sulla riforma della chiesa e sulla contrapposizione con l'impero fu Gregorio VII. Gregorio VII, nato il De Brando di Soana, era un monaco e quindi da monaco sapeva benissimo quale fosse la coerenza della vita e dell'azione. Quindi lui da buon monaco si mese l'obiettivo di riformare la chiesa e soprattutto di riaffermare l'autorità papale e spirituale, che era superiore secondo il suo pensiero a tutte le altre autorità. E questo lo mise nero su bianco in un documento importantissimo nel 1075 chiamato il Dictatus Pape. Quindi il dettato, la dichiarazione del Papa, dove era indietto chiaramente che essendo l'autorità papale quella più importante sulla terra in quanto veniva direttamente da Gesù Cristo, l'autorità papale poteva anche deporre l'imperatore o meglio poteva anche scomunicarlo, cioè sciogliere tutti i suoi feudatari dal giuramento di fedeltà fatto nei confronti dell'imperatore. E questo potere può venire solo in capo al Papa. Non solo. Gregorio VII pretese che tutti i sacerdoti, anche quelli secolari, fossero celibi. Inizia in questo periodo il celibato ecclesiastico. Quindi per mille anni i preti si potrebbero tranquillamente sposare. È dal 1075 in poi, fino ai giorni nostri, che i preti non hanno più la possibilità di sposarsi, anche per motivi strettamente politici. Perché naturalmente il vescovo, assegnando una parrocchia a un prete, poteva poi ridisporne quando il prete morto, senza figlie legittime, aveva la titolarità della parrocchia. Poi, la cosa molto più importante, Gregorio VII stabilì che gli ecclesiastici non potessero essere giudicati dai tribunali laici, ma solo ed esclusivamente dai tribunali ecclesiastici, secondo il diritto canonico. Quindi sottraendo di fatto tutti i preti, tutti gli ecclesiastici, dalla giurisdizione dell'imperatore. Naturalmente l'imperatore in carica, in quel periodo Enrico IV, non poteva assolutamente accettare una tale impostazione, men che meno l'affermazione del potere assoluto del Papa sull'imperatore. E facendo leva sul fatto che gran parte dei suoi fedotari erano vescovi conti, cercò di convincere i propri vescovi, i propri conti, i propri fedotari, di rifiutare questa impostazione e questo documento. Inizia la lotta per le investiture, in cui l'imperatore pretendeva, proprio perché i suoi vescovi erano anche i suoi fedotari, di nominare i vescovi. Nomina che però competeva esclusivamente al Papa. Nel 1077 Enrico IV cerca di fomentare una rivolta con dei vescovi tedeschi contro il Papa. Per tutta risposta Gregorio VII scomunica l'imperatore. La prima volta che questa gravissima sanzione viene combinata all'imperatore, in automatico tutti i feudatari della Germania si ritengono liberi dagli obblighi con Enrico IV, che viene costretto a questo punto a umiliarsi di fronte al Papa. Scende in Italia per poter ottenere il perdono di Gregorio VII. In quel periodo Gregorio VII era ospite della contessa Matilde di Canossa in Toscana. Enrico IV si dirige nel castello della contessa e viene costretto d'inverno a febbraio a rimanere fuori dal castello di Matilde in attesa che il Papa lo riceva e quindi gli dia il suo perdono. Enrico IV compie questo atto di sottomissione e Gregorio VII ritira la scomunica. Però ovviamente l'imperatore non poteva lasciare passare diciamo cose del genere e se la segna il dito in effetti nel 1084, quando ormai Gregorio VII era morto, torna a Roma, la cinge l'assedio per tre anni, la riconquista, mentre il Papa si rifugia a Castel Sant'Angelo e riduce di nuovo Roma sotto l'autorità imperiale. La lotta per l'investitura comunque continua senza esclusione di colpi. A chi compete l'investitura dei Vescovi? Questo è un grosso problema che viene risolto solamente, pensate, nel 1122, quando ci fu un compromesso fra la loro imperatore Enrico V e il Papa Calisco II che firmano il concordato di Worms. Worms è una città dove viene firmato appunto questo compromesso. Cosa diceva questo compromesso? Che tutti i Vescovi che erano anche conti, quindi anche feudatari dell'imperatore, avevano una doppia cerimonia, la cerimonia laica di investitura come feudatari e la cerimonia religiosa di consacrazione a Vescovi. Ma attenzione a chi toccava sceglierli e quindi consacrarli per prima, il compromesso fu trovato in questa maniera. Tutti i Vescovi che quindi diventavano feudatari, che erano al di sotto delle Alpi, quindi preganti in Italia, venivano prima consacrati dal Papa e poi nominati e investiti conti dall'imperatore. Invece a nord delle Alpi, quindi in Germania, succedeva l'inverso e l'inverso. L'imperatore sceglieva il conte, il suo feudatario, lo investiva e poi il Papa lo nominava Vescovo. Certamente tutto questo, che è un compromesso che non resse molto, non dirimeva la questione principale, cioè chi è più importante? Il Papa o l'imperatore? L'autorità del Cristo sulla Terra o l'autorità imperiale? L'autorità del Cristo sulla Terra o l'autorità imperiale? Grazie.